Ma che sta succedendo? Hai sentito questo voto? Buongiorno Io sono a mercoledì Ho paura, ho paura, ho paura Ma che stai facendo al buio? Ti aspettavo Dai, Arietta, per favore Ricorda, che stai facendo? Un tiktok Quale stai facendo? Sto cercando il trend quello nuovo della serie di mercoledì Il balletto Provocciamo Provocciamo? Vai Scusa, ma che state facendo? Ilai, ti ricordi che tu dovevi studiare? Ho detto Stefano Prova, ma dai, facciamo fare un tiktok E tu stai figo, dai, ricorda che siamo te Guardate che tra poco arriverà Stefano E per voi saranno guai Vabbè, noi iniziamo Sì, tutti questi Ok, adesso potete fare i compiti Ah, zio Roma, ma noi non ci va Dai Roma, guardiamoci almeno una puntata della serie Vieni qua Ti prego Non fammi piangere Però almeno sbrighiamoci prima che vieni Stefano, ok? Va bene, però farò una Una Sì, sì, qui dai, una Non so Ah, non so cosa faccio io Sei troppo lenta Sei troppo lenta A dopo Ma dove è andata? Non lo so Dove è il telecomando che noi continuiamo a vedere? E no Dove è? L'hai perso L'hai perso, è colpa tua Non l'ho perso È colpa tua, hai perso tutto Io? Sì L'hai perso il telecomando Oh Eh no È colpa È colpa È colpa Ragazzi Ricordo una cosa Sei litigata Arriva mercoledì Vi ho avviso, eh E voi non date la colpa a me Perché vi ho avvisato Ma io non ho capito che hai detto ieri Io non l'ho proprio vista Ne hai sentito Ok Ora è il momento Di vedere dove ho messo quel libro No Passo Giusto Funghetti Questo libro è molto antico Dopo Dopo vi dico Chi me l'ha dato? Questo qua ragazzi È un libro con delle edizioni magiche Fa diventare nasi lunghi Ali Ali Ragni Mosche Ah Un topo Non so lungo Vediamo Mercoledì Ora non lo so come mischiare Iladì che stai facendo? Niente, niente, niente Che cosa hai dietro la mano? Niente, niente Chiudi Lasciamo stare Fammi vedere Grazie un secondo Un secondo Un minuto arrivo Per un pelo Per un pelo Ma perché non si fa mai affare sua? Prima sangue di topo Oh Ah dai Oh Vomito di mosca Bava di lumaca E adesso ragazzi Devo solo mescolare Che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Non senti i rumori strani di là? Eh Scusa ma il Henry che sta facendo? Non lo so sono entrata là e era strana Hai sentito questo foto? Andiamo a vedere per favore Sì dai, andiamo Buongiorno Ilary Io sono a mercoledì Oggi è sabato Le vostre battute mi fanno vomitare Va bene, ok Questa è Ilary che si sta inventando Una delle sue, che si è mascherata Vabbè, continuiamo a guardare la serie Ora Mi diverterò io con voi Eh, che paura Sto tremando Non c'è nessun problema Vi farò vedere come rimanere da bocca aperta Adesso Le farò scoppiare per aria Questi copri sono proprio Un bruchino di video Ora, mentre loro Guarderanno il film e le farò saltare Per aria Prendo le mie piccole bombe Ti stanno qua A me piace questa serie Anche a me Sono pronta Pensavate che prima stavo scherzando Io sono a mercoledì Come sapete Non si risponde mai a mercoledì No, 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 scusa Basta Basta Scusa Scusa, scusa Non pensavamo che è di mercoledì Veramente Scusa E ora Zitte Ma per te è Hilary O mercoledì Non lo so Cioè Non lo so Però stavolta Mi ha messo davvero paura Sai che facciamo? Prendiamo Gli unicorni Intanto è piena Di guazzi Di unicorni Sì Hilary è innamorata Di unicorni E allora Facciamo che ne prendiamo uno O lo rompiamo Comunque vi facciamo vedere Che lo roviniamo E vediamo un po' Se è lei Veramente Se non è lei Che mi ha gustado Quindi se ci tiene L'unicorno È Hilary Sì Mi fa schifo Questa camera Mi piace solo I colori Rosso Del sangue E nero Almeno il nero È il colore Della morte Guarda tanto Un pipistella Per giocarci Un ragno Per mangiarlo Che delizia Guarda Qui c'è un un licorno Facciamo una prova Ok Adesso lo distruggo Questo unicorno E meno male Che lo distruggete Grazie al cielo Almeno una cosa colorata Si leva dal mezzo Ho capito bene Quello che ha detto Sì Hai capito Quello bene Cioè Hilary Non ha più gli unicorni Hai visto? L'ha ripreso Perché a giro Sa che ce l'avevo io in mano E Hilary Tranquillo Ha 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 butato l'unicorno nella tazza Ma Hilary Ma Hilary È troppo E' un po' 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 Andiamo a vedere dove stiamo? Dacci tu No 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 Mi sono presa Bastante azzurdi Da quella bambina Cioè lui Vabbè Andiamoci insieme Hilary Hilary No non c'è Come non c'è Adoro stare al buio Spero anche c'è un piccolo ragnetto Oh mio dio Ma che stai facendo al buio? Non lo so Vi aspettavo Eh tu ci aspettavi Noi no Ciao Spero che questo video vi sta piacendo Se no Ti rendi conto del buio? C'è Hilary che ha paura lei del buio Chiama Stefano no Chiamalo tu Stefano Ma chiamalo tu No Non vado a chiamarlo io Non manca a me Chiama Stefano Ma chiamalo tu 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 Ho paura Io chiamalo Stefano Chiamalo chiamalo Vi aspettavo E' arrivato il vostro momento Scusa ma prima tu non eri in camera Ma Ma come è possibile? Hilary per favore Adesso basta con questo scherzo Vi l'ho già detto Non so chi è Hilary Mi fa schifo Hilary Senti Noi vogliamo Hilary nostra Hilary che fa video su Youtube Hilary che fa ridere i bambini I funghetti A te non ti vogliamo Battene Hilary ti ricordi Il saluto dei funghetti Come si faceva? Certo Me lo ricordo Il saluto Era questo Che problema c'è? No Non era quello Adesso te lo facciamo vedere Noi così Almeno te lo ricordi Vai A E Ti ho fatto capire Quando sono arrabbiata Accate tutto Vabbè Adesso te lo facciamo rivedere Il saluto dei funghetti A E I O O O Così Questo saluto è vomitevole Ma lo hai sempre fatto tu Insieme a Stefano Insieme a noi A proposito Pure questo rosa Mi fa schifo Questo divano Lo odio 3 2 1 Molto meglio Questo sì che è un bel colore nero Chiamai Stefano Ok Pronto Stata Ma tra quanto dormi? Eh puoi fare prima Sì è urgente Eh sì è urgente Tanto urgente Non c'entrano niente i compiti Eh Che importa del giorno? Stai Ma che vieni Vai Aiutami fuori Basta Io di non ci legare? Sì Sì Non mi fate arrabbiare Se no Vi lego E vi strozzo Perché ci hai legato? Per sapere perché? Sì ma perché Mica ci vorrei ammazzare Vero? Sì ma tanto sta bene Allo Stefano Liberarci eh Ah sì? Quando ero piccola Mi vestivo di rosa Ora che so grande Mi vesto da sposa Quando ero piccola La dicevo Ogni ora che so grande Ti dico Tiè Ma che vuol dire? Sì ma liberaci Siamo strette Ancora parrà No 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 Basta Attivo per sempre Voce No 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 Ilore Taccotello Ecco Ora mi manca Solo di far chiudere Questo canale Sposo Aspettate Tocca al tazzo finale Fermi Buonanotte Care Il giorno Bello Sono riuscito a togliere la scotch Ok Allora ragazzi Ci dovete dare una mano Non ti capisco Non ti capisco Che schifo Funghete Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Quindi ragazzi Aiutateci a far tornare L'idea di quella di sempre E ragazzi Speriamo bene Ci vediamo domani Con un altro Malissimo Votrino AHAHAHA AAAAAH AAAAAH